Non di solo olio, arti e mestieri nella cucina popolare Ligure, il tema di quest'anno del concorso fotografico del Circolo Castelvecchio per Olio Oliva, giunto alla ventesima edizione. Pino Camiolo, presidente del Circolo Castelvecchio di Imperia, una ventesima edizione è un traguardo importante, è un premio fotografico che ha sempre raggruppato tanti appassionati, non necessariamente fotografi professionisti, anzi non è a quelli rivolto. No, non è rivolto ai fotografi professionisti, è rivolto ai fotomatori e alle scuole medie e elementari della provincia di Imperia. Come tu dicevi ha sempre avuto un grandissimo successo e noi speriamo che anche quest'anno lo abbia e a questo proposito ricordo che il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 13 di novembre e quindi raccomando a tutti di affrettarsi perché tanto tempo a disposizione non c'è più. Spero naturalmente che partecipino le scuole, tante scuole come è stato negli ultimi anni e un invito rivolto anche ai fotomatori. Quest'anno c'è una novità e lo voglio dire subito. La novità è che oltre al supporto cartaceo, come tutti gli anni, vorremmo anche che fosse presentato un supporto digitale. Quindi un cd o un dvd, ma è facilissimo, non spaventatevi perché magari detto così uno dice ma io come faccio a farlo fare? Tanto ormai tutti fanno foto digitali, quindi basta portare la foto digitale da un fotografo qualsiasi, ma noi abbiamo dei fotografi professionisti in tutta la provincia, bravissimi, e ci vuole niente a metterlo su un cd o un dvd. Poi le fotografie non vincitrici verranno restituite, il supporto digitale non verrà restituito perché queste fotografie potranno essere usate per scopi pubblicitari o scopi didattici da parte del Circolo Castelvecchio o da parte della Camera di Commercio di Imperia. Quindi è anche importante perché ognuno potrà anche avere l'onore di essere citato dalla Camera di Commercio o dal Circolo Castelvecchio perché, cosa importante, noi citeremo sempre qual è l'autore della fotografia. Le fotografie si possono presentare da fotografi professionisti nei negozi di Imperia, Sanremo, Diano Marina, Ventimiglia, insomma, quindi un po' in tutta la provincia. La mostra sarà dal 14 al 16 in occasione di Olio Oliva e poi domenica 16 alla biblioteca. 10.30, premiazione. La solita premiazione che sarà seguita da Imperia TV e lo voglio sottolineare, vi ringrazio, e poi riproposta nei giorni successivi. Le date le hai dette benissimo tu, è soltanto questo invito a partecipare e ad affrettarsi perché i tempi stringono.